In A11 è stato chiuso per lavori il tratto tra Alto Pascio e Chiesino Zanese in direzione Firenze. Per questo motivo si è formato un chilometro di coda tra Capanno e Rialto Pascio. Spostandoci sulla FIPI lì rallentamenti tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione Firenze. A Firenze in via del Ponte di Mezzo fino al 23 dicembre restringimento di carreggiata e di vieti di sosta tra via del Massaio e via dei Marignolli. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!